Il Comune oggi sarebbe dovuto tornare in possesso del magaparcheggio di Colle Maggio dopo la scadenza dei 30 giorni in seguito alla revoca ufficiale della concessione alla società MP che gestiva il terminal Lorenzo Natali. Ma non è stato possibile perché la società ha presentato ricorso e l'assessore alla mobilità del Comune Carla Mannetti questa mattina era in riunione con i legali per stabilire il da farsi. L'MP in sostanza ha chiesto la sospensiva e il ricorso si discuterà il prossimo 19 giugno con le tempistiche che inevitabilmente si allungheranno. Il Comune però annuncia di non cedere e andrà avanti comunque. Siamo in riunione per esaminare il ricorso che ha fatto la società, l'MP, quindi ha chiesto la sospensiva, è stata fissata un'udienza per il 19 giugno e noi siamo al lavoro ma noi andiamo avanti perché noi intendiamo riprenderci la struttura a tutti i costi, non accettiamo questo atteggiamento di questi imprenditori aquilani che dovrebbero volere il bene della città e invece continuano ad arroccarsi su posizioni per mantenere una struttura che di fatto hanno sostanzialmente distrutto le ultime lamentele degli ultimi giorni con il concorso della Guardia di Finanza dove sono arrivate moltissime persone qui all'Aquila e si sono lamentate dello stato di degrado della struttura. Il mega parcheggio nelle intenzioni del Comune dell'Aquila doveva essere ristrutturato e riabilitato per tamponare innanzitutto come chiesto più volte anche dai commercianti aquilani del centro storico la carenza di posti auto in centro, l'amministrazione secondo la Mannetti aveva già un piano. I tempi si allungano sì ma c'è l'intenzione di mettere nelle more del bando una task force di dipendenti comunali al lavoro comunque annuncia la Mannetti aspettando l'esito del ricorso. Noi abbiamo intenzione nelle more del bando di mettere su una task force di dipendenti comunali, dipendenti delle partecipate e gestire a 360 gradi la struttura. L'atto deliberativo sarà assunto in ogni caso e nelle more della causa così siamo pronti appena il giudice deciderà il da farsi.